Buongiorno, buongiorno da Mimino, sono le 8 e 15 del mattino, giorno 2, ieri praticamente dopo aver mangiato la carne sono crollato e adesso vado in bagno e poi subito un bel caffè, Mimino, Mimì, Mimino, colazione e poi anzi prima sigla poi colazione. Eccomi qua, buongiorno, eccomi qua dal bagno, come vi dicevo prima della sigla, ieri poi sono praticamente crollato subito dopo la doccia, nel frattempo Marco è andato a fare un amichevole di pallavolo alla quale sarei dovuto andare anche io ma non è riuscito a svegliarmi, cosa che invece è riuscito al suo ritorno perché chiaramente si doveva mangiare, infatti come avete visto alla fine del vlog che è uscito questa mattina ci siamo mangiati due belle bisseccone di quelle super super buone. Adesso saranno le 8 e 20, 8 e 25 del mattino, il Tito credo che dorma ancora perché non sento rumori di alcun tipo ma adesso lo sveglierò perché deve portare Gigino giù a fare i bisogni, io mi occupo di Mimino che è meno impegnativo. Oggi arriveranno le prime due persone speciali che passeranno il capodanno con noi ma non vi spoilerò ancora niente anche perché non so se arriveranno verso pomeriggio o verso sera, comunque adesso scendiamo giù, vi faccio un bel caffè che mi ci vuole proprio per svegliarmi e poi ci risentiamo e vediamo un po' che succede nell'arco di questa giornata. Un bacio a tutti, ciao! Ecco qua, primo caffè della mattina. Con la mia tazza. Ecco si è svegliato anche lui. Buongiorno. E adesso porterà Gigino. Ah, lo porti tu Gigino? Non penso proprio, porterà Gigino a fare i bisogni. Buona giornata e buon caffè a tutti. Questo è il meraviglioso cielo di Torino. Nebbia e foschia ovunque. Ci sono circa due gradi, però adesso si esce a fare la spesa. Per domani! Quindi adesso ci prepariamo e poi spesa a frappè. Eccoci qua, noi siamo di ritorno dal supermercato. Non abbiamo vloggato perché potete immaginare il giorno prima di Capodanno era stracolmo. Ma in ogni caso Marco ha fatto il video a spesa. E si è messo anche già all'opera. Ben 24 ore prima ci sono questi peperoni. Che farò con la bagna cauda. Che farà con la bagna cauda. Lo sentite? È una ricetta piemontese. Qua sta facendo rosolare le zucchine. Grigliare. Vabbè, rosolare, grigliare. Qua ci sono già quelle grigliate. Grigliate, è qua. Melenzane grigliate con agino prezzemolo, è ovvio. Adoro! E intanto noi siamo in attesa dei primi due ospiti. Adorerete. Adorerete. E le altre due persone sono arrivate. Adoro! Adoro! Col frisemolo! Allora facciamo il vlog nel vlog. E in più c'è... Briga! Viene champagne! Che è arrivata l'altra persona. Vlog nel vlog. Ciao! Ciao famosa! Sei al top! Brigadiere che è per te. Brigadiere, champagne! Facciamo vedere. No! A dopo. No! 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 Ma io volevo farvi vedere un'altra cosa. Guardate cosa mi ha portato la mia amica Mickey. Adoro! Noi ci facciamo uno sprizzettino. E poi... Ci vediamo. Non presto, ma... Prestissimo! No! Fa tutto lui. Ciao! E oltre ai due ospiti è arrivato anche per me il pacco di Annina. Il pacco della mia Anna. Questo è il biglietto. Vedete dentro ci sono scritte cose very personal. Quindi non ve lo leggerò, ma vi farò vedere il contenuto. Socks. Allora... Allora, anche per me l'English Tea. Christmas Tea. Eh, ma spiega perché anche per te. Hai detto anche per me. Ah, anche per me perché... Sì. Perché è stato mandato anche a Marcolino. Però... Non so se uscirà prima il tuo vlog o questo. English Christmas Tea. Poi... Allora... È un'agenda settimanale. Sì. Allora, questa... No. Più che un'agenda settimanale... Sono degli sticker da aggiungere a un'agenda settimanale. O meglio, a un bullet journal. Non so se lo vedete bene. Sarebbe uno sticky note set, si chiamano. E sono carinissimi perché ci sarebbero le note, le tue ispirazioni, tutto quello che puoi fare durante la giornata, gli obiettivi della giornata. Super utilissimo. Poi... Questo adoro. Questo... Cos'è? Adoro. Questo è... Un portafogli di Totoro. Adoro. Che... Cioè... Guardate un attimo la cucciosità di questa storia. Made in Japan. Guardate qua. Bellissimo. Questo... È stratof e arriva direttamente dal Giappone. Perché Anna è una super appassionata del Giappone. Anna non mi hai messo niente però dentro il portafogli. Lo sai che non si regalano mai senza qualcosa dentro. 100 euro potevi anche mettermi. Anche un centesimo si mette che è 100 euro. Ma stavo scherzando ovviamente. È bellissimo. Noi accettiamo solo le 500 in su. È bellissimo. E anzi, ragazzi, iscrivetevi al canale di Panko Kawaii. Vi lascio qua il link per iscrivervi direttamente. E poi... Anche io, così come Marco, ho il mio chupa chupa natalizio. Loli décor al cioccolato al latte. E poi... Credo che ci sia una cup anche per me. Ah, si chiama Cap? dato che io le colleziono è uguale il panda no io ho il gatto io ho il panda hug me abbracciami come vedete qua ha la parte in gomma super apprezzatissimo tutto ma direi che lui vince su tutto grazie a nina un bacione grandissimo e tanti auguroni per uno splendido anno nuovo ciao bella lo chef volley ha cucinato il spezzatino di patate e adesso brindisi la setta è finita andiamo in pace amena dovunque andrà rock and roll allora sono nel bagno di sotto di casa tito e non so se sentite in sottofondo ma si è aperta la serata crao che tra tito e sono famosa mi ha fatto vedere qualche spezzone ma non volevo mi venisse demonetizzato il video per copyright quindi ho veramente registrato il meno ma il meno di quello che sta succedendo non so se sentite i ragli in sottofondo comunque tutto bellissimo sono contentissimo vorrei tanto che ci fosse la mia regina con me per il resto un bacio grande a dopo ciao 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 e Marco si stanno già preparando e impigiamando perché domani ci dobbiamo ammazzare super presto perché arrivano gli altri arrivano gli altri arrivano gli altri della gang oddio aiuto quindi noi vi mandiamo un bacio grande, una super buona notte e noi non ci vediamo presto ma prestissimo ciao